ci avete mai fatto caso che la gente non sa scrivere la gente non sa scrivere cioè è grave non saper scrivere se hai più di quattro anni cioè io posso capire un errore di ortografia ogni tanto ma non azzeccare neanche una coniugazione di un verbo a caso apostrofo ovunque accento dove ci vanno dove non ci vanno h in più in meno chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è ma prendere il gioco povero cane ma che cazzo di film è questo roberic col filtro roberic comunque ragazzi vi siete persi delle scene incredibili chi è louis hamström il primo astronauta no quello è cantante invece nail hamström voglio tornare al 2 0 1 9 le disco in bolla il don perol che piove è con i fratelli al posto che qui abbiamo un set fare tutto a gosso a camminare storto tra le luci di Villa Pappete e anche un secondo di quete siamo a vedere voglio tornare al 2.0 1.9 le disco in bolla il dompero che piove con i fratelli al posto che qui abbiamo un set fare tutto a gosso a camminare storto voglio tornare al 2.0 1.9 le disco in bolla il dompero che piove con i fratelli al posto che qui abbiamo un set i tanti blu in lontananza e temo proprio che non sia un'ambulanza tutti sono arrivati carattere non nascondi bene tu e va ragazzi Awed ha fatto l'errore madornale di acquistare un monitor da gaming e l'abbiamo totalmente perso sono un po' preoccupato grazie